In questo video vogliamo che il ritorno tenebbe stemmi OI NO Ciao a tutti amici Bentornati Mannaggia la Lus Anno Sui Sonso Su Oggi Abbiamo perso il Abbiamo perso Mannaggia quel porco Che protone sei? Non lo so Aspetta Il protone di te Ragazzi Era tanto tempo che non tornavo sui sonzo E forse ci sarà anche un motivo no? Mamma Cosa? E' morto? Eole Un 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 Ok due uccisi Madonna Un 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 ma chi mi ha ucciso a me? cioè mi hanno ucciso da dietro ma no damaschina no ma com'è possibile che non boh ho i tu come? ho i tu ok ragazzi supportatemi in questa di crociata perchè veramente ho nulla trasferito in arco ti meriti e da mamma si fa Umbres oh ma no ma tra tutta la gente a me mi spara un pezzo non mi ha posizionato no occhio a me oh ma perchè non prendi? cioè i colpi non entrano ho convendicato e ho ucciso questo ho una mira proprio di merda ma non penso ce l'avevo davanti avanti lo scopriamo solo cacando allora avanzo ma sei tu questo davanti a me? sei fuciliere? no sei fuciliere? sei fuciliere? si faccio schifo sto a due dieci ragazzi ma com'è da dietro? ah beh giustamente in questo video vogliamo il ritorno delle bestemme due secondi guarda cosa stava? cos'è giù? vabbè 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 ragazzi per aver visto questo video so che video vi sia piaciuto mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale noi ci vediamo su un prossimo video ciao vi voglio bene ciao ciao